Per calmare il pianto di un neonato, prova a fasciarlo con una coperta in modo da farlo sentire comodo e protetto. Inoltre, a volte, far saltellare dolcemente un bambino aiuta a calmarlo, ma assicurati di farlo con estrema delicatezza. Puoi anche provare a usare dei leggeri suoni di sottofondo per farlo rilassare, come della musica, il rumore della pioggia o di una ventola. Se il bambino continua a piangere, accertati che non abbia fame. Prova anche a cambiargli il pannolino. Se è sporco, è possibile che sia questa la causa del malessere. Nel caso in cui non dovessi trovare alcuna soluzione, prova a fare un gioco come quello del cucù, che potrebbe bastare a distrarlo e interrompere il pianto.